Studenti a lezione di correttezza sportiva, questa mattina i ragazzi del liceo sportivo Benedetto Varchi di Montevarchi hanno ascoltato Sandro Donati, già tecnico della Nazionale di Atletica Leggera per una masterclass sul tema del doping, piaga principale della regina delle discipline agonistiche. I ragazzi devono riflettere che dietro al doping c'è un gigantesco affare dell'industria farmaceutica, alla quale non sembra vero di aver trovato milioni di praticanti sportivi in tutto il mondo che hanno questa smania di raggiungere il risultato ad ogni costo, fortunatamente non sono tutti così i praticanti amatoriali, anzi la maggior parte sono delle persone equilibrate, però ai ragazzi direi di scegliere gli esempi giusti. Io direi che iniziative come quella di oggi qui nel liceo sportivo di Montevarchi sono incomiabili da parte degli insegnanti perché sono un modo per creare un antidoto, un'informazione corretta nei confronti dei ragazzi per cercare di prevenire per il futuro. Ovviamente coinvolte ed orgogliose amministrazione comunale e la scuola stessa. Avere qua Donati è occasione di grande soddisfazione, poter ascoltare le parole forse del numero uno al mondo che si occupa di lotta contro il doping e di rispetto delle regole dello sport è fonte di grande soddisfazione e risponde sicuramente ai bisogni della scuola di formare ragazzi che sappiano rispettare tante regole, comprese quelle dello sport. Una persona che ha avuto tanto coraggio e che continua a avere questo coraggio nel denunciare quello che nello sport è veramente assurdo, utilizzare il doping per raggiungere un risultato. Lo sport non è questo, lo sport è sacrificio, lo sport è impegno, lo sport è fare di tutto per raggiungere un obiettivo, ma fare di tutto in un senso lecito e onesto.